ZOMBIE APOCALYPSE 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 Gli abbiamo preso 6 punti Alla prima classifica Però noi siamo ancora terzi Adesso mi sembra siamo diventati E non mi va per niente bene Perché noi dobbiamo arrivare Assolutamente secondi in campionato Quindi meglio sbrigarsi E prendere più punti possibili Per star sicuri che comunque Possiamo Come si dice Essere promossi senza problemi Senza preoccuparci più di tanto Perché non me voglio caga sotto Pure l'ultima partita di campionato Bisogna spingere sull'acceleratore Adesso E andarla a chiudere E che cazzo Così posso pure simulare qualche partita E andiamo subito in Serie A Grande Gurro Cosa fa Gurro? E la tira fuori Il Gurro fa tutto bene Ma purtroppo quando arriva là davanti Se li caga sempre ultimamente Non so che cosa gli sta prendendo Sinceramente Ho fatto pure la rima Bellamente Figo Sempre Tiè Mamma mia son rapper Ragazzoni miei Questa la vedo brutta Perché Non riusciamo proprio a fare dei passaggi Là davanti Uh 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 aspetta Quello è fallo cazzo Non riusciamo a fare dei passaggi Importanti comunque Là davanti Quindi non Non ci riesco proprio A arrivare in porta Loro stanno veramente chiusi 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 Anzi Riportano pure bene Io non la passo perché non so capace Cioè io la passo Io la passo perché a tirare non so capace Ecco Ma l'ho detto bene Oh 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 Regà Noo Cazzo Cazzo Mamma mia regà Se segnavamo così Quanto potevo Sono stati sfortunati eh Perché qua è stato È stato È stato zozzato il tiro di 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 È stato veramente sporcato Quindi È riuscito pure a pararlo il portiere Anzi Dovevamo essere avvantaggiati Nonostante La sporcatura Mannaggia Troia No Non l'abbiamo ripresa Invece sì No Niente Mo' ci ripartono pure Eh grande Paoletto Cannavaro Dai all'ultimo Dai all'ultimo Dai all'ultimo Noo perché ma sto Ma l'ha stoppata di merda regà Me l'ha stoppata di merda Se no andavamo a segnare Adesso ho detto Ultra offensiva proprio Dai cazzo Dai Willan Cazzo Calcio d'angolo regà Di solito ribattiamo bene Però mi Non lo so Non me la sento Non me la sento proprio tanto 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 E calla infatti Dai Paoletto Dai Paoletto Cannavaro Rigiocala Mettila dentro Eh cazzo Cazzo Finisce qua ragazzi Stiamo pure al novantasettesimo Novantottesimo E finisce qui regà Quindi è finita così Abbiamo pareggiato contro il Tescara Eh purtroppo Ci è andata male regà Ci è andata veramente male E da tantissimo che non prendiamo gol Tra l'altro Mi sembra in casa Non prendiamo un gol E da veramente da Da una cifra L'amato E rimaniamo comunque terzi A meno tre Dall'Avellino L'Atalanta ormai sta al 55 Non so se ce la facciamo a prenderla lei L'importante è pensare all'Avellino E al secondo posto regà Quindi Vi ringrazio per aver visto il video Lasciate un bel like Iscrivetevi e fate quello che vi pare Vi voglio bene regà Bella L'Avellino L'Avellino